Ciao a tutti, i tarocchi come via iniziatica della consapevolezza. I tarocchi rappresentano anche una via iniziatica della consapevolezza. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò delle risposte precise alle tue domande. Allora dobbiamo tenere presente che i tarocchi, soprattutto i tarocchi di Marsiglia che sono comunque i tarocchi più antichi, rappresentano diciamo una via iniziatica della consapevolezza anche perché gli arcani maggiori soprattutto rappresentano dei simboli sui quali noi spesso proiettiamo, diciamo proiettiamo ciò che siamo e quindi rappresentano un'allegoria, una metafora molto importante. In questo video voglio un po' spiegare quali sono i simboli dei tarocchi e come ci consentono di diciamo rivelare i legami inconsci, le catene che ci legano diciamo e invece come liberarci. quindi da queste situazioni che la vita spesso ci propone e che noi dobbiamo imparare a interpretare che i tarocchi diciamo nella loro dimensione simbolica che è onnipresente, diciamo è parte integrante della nostra vita e ci permette di affrontare. Ecco quindi i tarocchi rappresentano veramente un percorso iniziatico. I tarocchi di Marsiglia comprendono ovviamente 78 carte ma quelli più importanti che andremo a vedere sono gli arcani maggiori. Gli arcani maggiori che sono 22, il numero 1 è il mago, il numero 2 la papessa, 3 l'imperatrice, 4 l'imperatore, 5 il papa, 5 il papa, 6 l'amante, 7 il carro, 8 la giustizia, 9 l'eremita, 10 la ruota della fortuna, 11 la forza, 12 l'appeso, 13 la morte, 14 la temperanza, 15 il diavolo, 16 la torre, 17 la stella, 18 la luna, 19 il sole, 20 il giudizio, 21 il mondo e poi c'è un arcano maggiore senza numero che rappresenta il matto. E allora vediamo un attimino quali sono questi, cosa rappresentano questi simboli. Allora il bagatto che è il primo raffigura un giovane uomo in piedi che sta iniziando un percorso, un percorso di realizzazione. Il bagatto, il mago, sta in piedi a piedi divaricati che esprimono però immobilismo, quindi ha un cappello a forma di otto allungato che evoca comunque un'apertura mentale. Il tavolo indica che il mago sta effettuando un lavoro, infatti questo tavolo però è rappresentato solo con tre supporti, il che lo fa rappresentare in posizione instabile. Però il tre riporta anche alla trinità, diciamo. Il mago rappresenta l'inizio. La superficie, diciamo, è molto più semplice di un piano di lavoro, perché del tavolo rappresenta l'universo, e perché sostiene le quattro energie, infatti vi sono i denari, la terra, i bastoni, il fuoco, le coppe, l'acqua e le spade, l'aria. Il mago, che è il numero uno, rappresenta, diciamo, la creazione, la nascita, l'inizio, il mago prende coscienza della sua condizione umana e, diciamo, può partire in un percorso di esplorazione delle sue potenzialità. Rappresenta il risveglio e l'attività necessaria per poter raggiungere, diciamo, un percorso di cambiamento. La positività degli atti possono portarlo, diciamo, ad avere un miglioramento di se stesso. Le parole chiave sono lo sforzo, il lavoro, l'iniziativa. Se la carta esce dritta, diciamo, la persona ha voglia di innovare, di creare, di lanciarti in nuovi progetti. Il desiderio è quello di intraprendere e al massimo aspire, diciamo così, a un cambiamento, a un rinnovamento della vita. Se, diciamo, la carta esce capovolta, manchi di motivazione, di entusiasmo e c'è un'assenza di progetti e paura di compiere uno sforzo, fondamentalmente. È la sensazione di essere vecchio scartato, diciamo, dalla vita. Quindi la carta dritta ti dà l'iniziativa di agire. La carta capovolta devi lottare contro la passività. Il numero due è la papessa, che è una donna seduta, vestita con un abito rosso e una cappa blu. Tutto qui allude alla polarità femminile. La papessa è il simbolo dello yin. Ha una tiara ricamente decorata, che rappresenta una funzione religiosa di grado elevato. La papessa appare a prima vista irrigidita, però in realtà è un personaggio molto libero, perché ha raggiunto la supremazia dello spirito sul corpo. La papessa, diciamo, rappresenta una donna con una grande femminilità. Il legame che unisce la papessa al pape è di natura spirituale, diciamo. Nel mazzo le due carte non sono contigue, quindi esprime lo spirito, la trascendenza sulla materia. Quindi la papessa simboleggia, diciamo, più che altro lo yin, quindi un po' la passività, la femminilità, in contraposizione un po' al mago, che è l'attività. La papessa agisce soprattutto sul piano mentale, rappresenta anche l'inibizione delle pulsioni e il suo stesso nome, diciamo, ha comunque un carattere religioso, quindi desessualizza il personaggio. La papessa, diciamo, rappresenta una tappa fondamentale che è quella della formazione, quindi nel percorso iniziatico rappresenta proprio la formazione. Infatti le parole chiave sono lo studio, la concentrazione, la conoscenza. Se la carta esce dritta è un bisogno di riflettere, di memorizzare. Se esce capovolta hai bisogno di realizzare degli attaccamenti. Se esce dritta hai la potenzialità per crescere nel tuo percorso individuale, diciamo. Se esce capovolta devi realizzare di più. Nella carta dritta puoi riflettere, hai questa capacità. Se esce capovolta devi agire maggiormente. E poi abbiamo l'imperatrice, che è l'arcano 3 dei tarocchi, che raffigura una donna seduta su un trono color carne e simboleggia il potere, diciamo, che esercita sul piano umano. Lo scudo rappresenta lo strumento attraverso la quale la papessa si protegge e si difende, diciamo. Ha un'aquila che rappresenta il potere, la forza e con la mano sinistra tiene lo scettro in modo, diciamo, come se gli mancasse un po' l'energia per sostenerlo. I capelli bianchi danno alla papessa un'area di maturità, di esperienza e sono funzionali, diciamo, alla capacità di coinvolgimento di questo personaggio. La papessa, diciamo, rappresenta il potere, incarna la dimensione del potere, la dimensione notturna dell'imperatore, che è l'arcano 4. Queste due lame sono un po' le due facce della stessa medaglia, insomma, da un certo punto di vista. Da un punto di vista iniziatico la papessa rappresenta proprio la progressione, la voglia di progredire, la voglia di trascendere e di raggiungere il potere, però anche con la difficoltà di governare il potere stesso. Però rappresentano anche la fiducia in se stessi, la volontà, la determinazione. Se la carta è dritta, hai bisogno di affermarti, di raggiungere il successo. Se è capovolta, non hai la determinazione o la sicurezza necessaria per raggiungere i tuoi obiettivi, sia consciamente che inconsciamente resti un po' sottomesso o perdente. Carta dritta rappresenta la forza, la volontà, la determinazione. Carta capovolta, un po' la perdita di potere. E poi abbiamo l'imperatore. L'imperatore, l'arcano numero 4, rappresenta la forza. La forza brandisce lo scettro, la mano è ingrandita come a dare misura della forza. Ha uno scettro che rappresenta il fallo, rappresenta proprio la potenza. Lo scudo è anche ben rappresentato. Non è più utilizzato perché l'imperatore ha talmente tanta forza che non ha bisogno di difendersi. Ha un copricapo che evoca il guerriero. L'imperatore rappresenta la lenta trasformazione anteriore e lo sviluppo positivo delle potenzialità del mago. Il numero 4 rappresenta solo la solidità, la stabilità. Rispetto all'imperatrice, il numero 4 rappresenta più il potere, più la stabilità che il potere. Ha integrato l'azione pura del mago, la conoscenza della propessa, il potere dell'imperatrice. Quindi incarna la certezza. Una figura su un piano psicologico rappresenta, diciamo, l'autorità anche. Quindi le parole chiave sono stabilità, perseveranza, serenità. Se la carta è dritta riesce a raggiungere la tua stabilità, la tua armonia. Se la carta è capovolta hai un bisogno di cambiamento. Se è dritta sei in grado di opporti alle avversità. Se è capovolta tendi a mancare un po' di perseveranza. Quindi se è dritta devi saper conciliare la progressione alla continuità con la sicurezza. Se è capovolta devi cercare di darti da fare per realizzare i tuoi progetti. Poi abbiamo il Papa, l'Arcano V, che è un uomo anziano, saluto su un trono. Il Papa porta una croce che viene rappresentata sempre in tre livelli. Diciamo che il segno raffigurato sul guante ha dato luogo a numerose speculazioni. Alcuni riconoscono una croce, altri evocano un segno cabalistico. La mano destra benedice fondamentalmente e il significato dell'Arcano risiede in questo punto, cioè nell'atto. Il Papa perdona, accorda, accetta. Il Papa costituisce l'apertura spirituale, costituisce un atteggiamento di ascolto, di raccoglimento. Rafferma il principio che, come dire, chi si aiuta, il cielo aiuta fondamentalmente. Rappresenta il simbolo della moralità interiorizzata e la fede di là, la definizione di un principio divino espresso nell'unità, il pensiero magico e religioso, e rappresenta un po' il Papa, il pontefice, rappresenta un po' la figura, il rapporto tra l'uomo e il divino. Individua l'autorità, non necessariamente religiosa comunque, e dà un appoggio morale, un aiuto, un sostegno. Se la carta è dritta, aspira a farti aiutare, se è una persona che dà garanzie morali. Con la carta capovolta, invece, puoi desiderare, diciamo, anche di fare del male alle persone. Insomma, carta dritta sei in grado di trovare un sostegno e carta capovolta puoi far fronte agli eventi con un po' di difficoltà. Abbiamo poi l'amante, che è l'arcano numero sei, che, diciamo, ha la postura fisica dell'amante, sta a gambe divericate e quindi allude a un'attività potenziale, però non è ancora sfruttata. Diciamo che qua è un po' fermo, è un po' indeciso, perché l'amante, diciamo, deve scegliere, ha due donne, la donna a destra della carta è più giovane, presente un aspetto più avvenente, mentre quella a sinistra, più anziana, indica un po' l'austerità, diciamo. L'influenza cosmica è materializzata da Eros, greco, cupido romano, e rappresenta una dimensione affettiva, quindi l'amante rappresenta un po' il piano simbolico, il piano sentimentale. Quindi questa è un'altra carta che l'amante decide del suo futuro e comunque rappresenta anche l'esperienza amorosa all'uomo di fronte alle aspirazioni del cuore. L'amante incarna l'impegno, non è soltanto amore gratificante, ma può essere anche amore scomodo, amore problematico, rappresenta l'individuo all'uscita dell'adolescenza e rappresenta anche una scelta esistenziale, perché l'amante deve decidere chi amare e da chi farsi amare. Quindi rappresenta un po' l'amore, la scelta, l'impegno. Se la carta dritta è delle aspirazioni profonde, dei desideri di amare e di essere amato, con la carta rovesciata, diciamo, tendi a mettere un po' in secondo piano la vita amorosa. La carta dritta ci sono potenzialità d'amare, di ricevere amore, e la carta capovolta non apri fondamentalmente il tuo cuore, insomma. E abbiamo poi il carro, che è la settima carta, che rappresenta un giovane uomo alla guida di un carro che è formato da due parti. Il piano superiore è strutturato, mentre quello inferiore è più caotico, diciamo. Ci sono questi due animali che trascinano il carro, mentre il giovane ha degli attributi regali, la corona, lo scetto, quindi porta un'esperienza. E la scena in basso, diciamo, invece c'è questo veicolo che, così come disegnato, è un po' bloccato nell'avanzare, quindi ci sono dei blocchi fondamentalmente. Il carro individua la frontiera, diciamo, tra ideale e reale, quindi questo è un po' quello a cui si aspira, ma che a talvolta si ha difficoltà di raggiungere anche un po' per il potere dell'illusione, diciamo. Se il carro rappresenta comunque il successo sociale, è rapportatore di un significato positivo, perché è comunque il successo però materiale, più che il successo nell'individuo. Quindi rappresenta un po' l'orgoglio, l'ego, l'ambizione, insomma. Se la carta è dritta, senti i bisogni superati, sei molto ambizioso. Se la carta è capovolta, condividi, diciamo, hai dentro di te dei meccanismi di sabotatori che ti possono portare al fallimento, da un certo punto di vista. E poi abbiamo la giustizia. La giustizia è l'arcano otto, rappresenta una donna seduta che ha in mano gli attributi della giustizia, ostenta il rigore, una determinazione, con un atteggiamento risoluto, indica all'uomo che non può fuggire, sottrarsi all'azione della giustizia. Ha tutti i suoi oggetti, la corona, il trono, la bilancia, la spada, che rappresentano la natura della giustizia. Quindi la giustizia rappresenta, diciamo, della legge della causalità, è un po' rappresenta la legge del karma, se vogliamo, ad ogni azione corrisponde una reazione. La reazione è proporzionale all'azione, quindi la giustizia evoca come scenario, diciamo, l'attuazione di istanze autoritarie, se vogliamo. Se la carta è dritta, avverti l'esigenza di una giustizia morale, sociale, umana e desideri che vengano riconosciuti i tuoi diritti. Se la carta è capovolta, porti dentro di te un profondo significato, un profondo senso di ingiustizia subita. E veniamo poi alla carta, l'arcano dell'eremita. L'eremita che lo vediamo, l'arcano numero 9 dei Tarocchi, che avanza con movimento lento, rivolto verso il passato, quindi il suo orientamento appunto a sinistra è rivolto verso il passato, tutto il corpo è ricoperto da un tessuto che maschera l'aspetto fisico, l'eremita è rivolto più allo spirito che al corpo e conta soltanto il pensiero. Poi ha questo bastone che stabilisce un legame fisico che permette lo scambio tra l'energia dell'uomo e della terra, un cappuccio che è un elemento che garantisce l'apertura del personaggio. La lanterna che ha un significato simbolico, riccheggia diogene che cerca l'uomo, il senso dell'uomo. L'eremita analiticamente rappresenta la ricerca del processo di individuazione, riscoprire se stessi fondamentalmente. Rappresenta il cercatore che è in opposizione al credente, perché l'eremita vuole proprio ricercare. Rappresenta il ritiro, un po' la chiusura, alcune battaglie sono già perse o semplicemente vane. Diciamo, questo arcano numero 9 significa l'accettazione della solitudine, la conquista dell'indipendenza e dell'autonomia. È un personaggio che agisce nell'ombra, è legato alla solitudine. Se la carta è dritta, hai bisogno di isolarti, di rigenerarti. Se la carta è capovolta, temi la solitudine, temi l'abbandono. Poi abbiamo la ruota della fortuna, che è l'arcano 10, che rappresenta una ruota a sei raggi. Gli animali, diciamo, caricature di esseri umani, fanno girare questa ruota e questa carta, diciamo, è estremamente ricca e complessa, ha un'iconografia molto importante. Il simbolismo della ruota si collega a quello del triangolo, materializzato dai tre animali. Quindi abbiamo la ruota, il triangolo, quindi pensieri contrapposti che orientali, occidentali, che si contrappongono e rappresenta un po' il cambiamento, la vita è cambiamento, il pensiero buddista del cambiamento, del cambiamento continuo. La ruota della fortuna, diciamo, riguarda questo ciclo, questo continuo cambiamento, l'evoluzione, il ciclo naturale e il cambiamento. Appunto, se la carta è dritta e voglia di evolverti, di cambiarti e alla fine otterrai i tuoi risultati. Diciamo, se la carta è capovolta ti senti un po' bloccato nelle tue azioni. Poi abbiamo l'arcano 11, che è la forza, che è una donna in piedi con un copricapo che tiene la bocca aperta di una fiera. L'animale, che la donna domina, diciamo, è una via di mezzo, diciamo, tra un leone e un cane. La donna tiene aperte le fauci di quest'animale, di questa fiera e cosa rappresenta? Simboleggia il trionfo dello spirito sul corpo. Rappresenta la padonanza degli istinti. la donna non uccide l'animale, quindi però lo domina fondamentalmente. Rappresenta, da un certo punto di vista, la forza, proprio la capacità di energia, di forza, di salute, di potere, di padonanza. Se la carta è dritta hai bisogno di affermarti, di essere te stesso, sei capovolta, dubiti un po' delle tue capacità, della tua forza. Se è dritta hai forti energie, se è capovolta manca un po' di fiducia in te stesso, in te stessa. Poi abbiamo l'appeso, che è l'arcano 12 di tarocchi, che rappresenta un uomo appeso, col piede sinistro, una trave, quindi rappresenta un po' la sofferenza, ma non troppo, perché è appeso ai piedi, non è appeso alla testa, e quindi questa carta rappresenta, intanto il numero 12 segna un complemento di un ciclo, 12 sono i mesi dell'anno, ad esempio. L'appeso rappresenta un evento drammatico, la perdita dei mezzi per agire, un po' il blocco, gli ostacoli fondamentalmente che ci sono. È un aspetto angoscioso, anche per il corpo capovolto. Quindi rappresenta un po' il blocco, la costrizione, l'impotenza. Se la carta è dritta, sei a disagio, diciamo, con te stesso, ti senti bloccato, ostacolato. Se la carta è capovolta, senti l'esigenza, diciamo, di ritrovare la tua libertà di uscire fuori dal tunnel, diciamo così. e poi abbiamo l'arcano 13, interessante, l'arcano 13 è la morte. La morte rappresenta, diciamo, un arcano molto molto interessante, la falce e il suo strumento, trancia di netto, senza esitazioni, ne debolezze, e tutto, esprime il superamento, diciamo, del cambiamento. La morte rappresenta una trasformazione radicale, un cambiamento radicale. non è un termine, ma è una transizione, un cambiamento. Rinvia, quindi, rimanda, da un certo punto di vista, alle angosce, anche proprio della morte, idea di frammentazione. È una tappa, però, fondamentale nell'esistenza umana, per cui, sul piano fisico, non è la morte fisica, ma è il cambiamento, un cambiamento molto repentino. Su un piano iniziatico, rappresenta un passaggio obbligato, perché non è possibile evolversi senza uccidere, tra virgolette, quello che si era prima per diventare quello che si era dopo. Rappresenta la trasformazione, la distruzione, l'abbandono, il distacco. Se la carta è dritta, hai bisogno di voltare pagina e di cambiare, il cambiamento è positivo, se è stort, temi un po' le novità e temi il cambiamento. Poi abbiamo la temperanza, che è l'arcano 14, che rappresenta una donna lata che, diciamo, versa un liquido da una brocca all'altra. Compie un'azione che sembra immutabile, che non produttiva, mette in relazione due cose che sono separate, unisce due vasi attraverso un fluido, quindi l'arcano incarna il principio dello scambio per eccellenza e rappresenta il detto che tutto, nulla si crea, tutto si trasforma, insomma. Le pulsioni sono invece quelle della sottomissione, dell'attaccamento. la temperanza rappresenta la terza virtù, diciamo, evoca la moderazione e invita a evitare gli eccessi. È una carta di armonia, se vogliamo, una lama di armonia. Se la carta esce dritta, rappresenta un bisogno profondo di comunicazione, infatti come carta rappresenta la comunicazione, lo scambio, la fluidità, l'adattamento. Se la carta esce invertita, invece, rappresenta la disarmonia, ti senti in disarmonia con te stesso e paura di agire e di fare le cose. Poi abbiamo l'altra carta, l'arcano 15, che rappresenta il diavolo. Il diavolo è una figura emafrodita, maschio e femmina, vestito con una calzamaglia e raffigura un corpo sensuale e l'unione del maschile e del femminile, diciamo. a simboleggiare l'ermafroditismo, ha in mano una spada che attesta la forma dell'intelligenza. Quindi il diavolo ha un atteggiamento non minaccioso, ma manifesta il desiderio di comunicare, anche se al volto, diciamo, contratto da una smorfia. Il diavolo non è solo, ci sono altri due personaggi che sono legati, lui li cinge al collo, sono legati a un'incudine rossa, il diavolo domina con la seduzione, anche con la paura, separando e non unendo. è un simbolo molto complesso, dal punto di vista psicologico esprime il corpo del desiderio, esprime la possessione, esprime l'istinto, ha questa capacità e governa il mondo, il diavolo governa il mondo degli istinti, delle passioni, gli organi di senso, diciamo, della libido, rappresenta un po' tutta questa parte. Se le parole chiavi sono piacere, desiderio, libido, seduzione, sensualità, se la carta esce dritta, diciamo, il tuo appetito libidico è al massimo il voglio di sedurre, di conquistare, anche di manipolare. Se, diciamo, se la carta esce capovolta, hai pochi desideri e per te se esse denaro, diciamo, sono vissuti in modo estremamente negativo. E poi abbiamo la torre che è l'arcano 16 e rappresenta una torre dove cadono delle persone e la fiamma che colpisce la torre rappresenta la folgore, vale a dire il fuoco divino, non distrugge la torre ma distacca la sommità della torre e mentre cadono le persone si scatenano le forze diciamo il numero 16 assegnato alla torre rapporta diciamo rappresenta l'onnipotenza della natura e della terra sull'uomo l'uomo non può essere padrone assoluto e la torre evoca le terribili conseguenze della presunzione umana un po' come la torre di Babele rappresenta quest'arcano il crollo ed evoca a nostro tempo l'importanza della reazione la torre indica che dal momento che tutto è in perpetua evoluzione anche le avversità non possono essere definitive quindi l'arcano si basa sul crollo sulla caduta e sul castigo diciamo gli insegnamenti sono che il fallimento esiste come contraposizione al successo non può esistere successo senza fallimento e poi insegna anche che il dolore è talvolta espressione proprio della tracotanza degli uomini e bisogna imparare a diventare saggi smettersi di opporsi se la carta è dritta vuol dire che devi tentare tutto per tutto cercando di bloccarti su certe cose se la carta è storta rappresenta desideri la protezione diciamo devi assumerti dei rischi fondamentalmente poi abbiamo l'arcano 17 che è la stella che rappresenta la natura diciamo che viene rappresentata con tutti gli elementi la terra l'acqua l'aria il fuoco insomma questa carta rappresenta diciamo il numero di la socia diciamo il numero 17 può essere fa 17 1 più 7 fa 8 e le richiamo diciamo il legato alla giustizia fondamentalmente la carta 17 dei tarocchi è orientata alla capacità di ricevere di accogliere illustri i due termini dare e ricevere quindi doubt des ricevere significa aprirsi significa avere la capacità di aprirsi agli altri dare non basta è necessario anche ricevere quindi rappresenta tutte queste caratteristiche fondamentalmente le apparenze sono ingannevoli e la stella è percepita positivamente evoca la natura ciò che è di bello e puro la stella incarna un po' l'ideale l'opportunità la providenza il dono se è dritta hai sviluppato uno stato d'animo positivo se è capovolta non ti senti aiutato e protetto quindi devi cercare di migliorare un attimino in alcuni punti poi abbiamo la la luna la luna è l'arcano 18 che è suddivisa in tre piani un piano celeste raffigurata da un profilo terreno diciamo con due cani e due torri e poi un profilo acquatico diciamo i cani lupi incarnano l'aspetto istintivo le torri sono le costruzioni individuali il piano acquatico invece rappresenta il ricettacolo diciamo di altri piani la luna rivela l'arcano il mondo interiore il mondo torbido l'acqua nella quale ci si perde ci si annega però può anche ritemperare la terra manifesta un pensiero razionale affidabile ma limitato il cielo la parte legata al trascendente all'immaginario diciamo che l'arcano rimane oscuro quindi evoca spesso sensazioni negative fondamentalmente però rappresenta anche la creatività l'immaginazione la maternità è una carta femminile per eccellenza se è dritta hai bisogno di dedicarti alla tua vita interiore se invece è capovolta hai il morale basso tendente alla depressione fondamentalmente e poi abbiamo il sole il sole nell'arcano 19 rappresenta un sole con volto umano e il sole è una carta positiva essenziale per la vita diciamo descrive l'attitudine psicologica ad adottare vivere emozioni positive è sicuramente una carta molto positiva attraverso i gemelli il sole evoca il rapporto simbolico identificativo rappresenta la gioia la soddisfazione la concretezza se la carta è dritta aspira essere felice se la carta è capovolta averti l'esigenza di altro e poi abbiamo il giudizio che è l'arcano 20 che rappresenta un angelo imponente maestoso in cui vediamo soltanto la parte superiore e due piccole ali che rappresenta un po' essere il messaggero degli dei la giustizia rappresenta diciamo la fede che non ammette dubbi rappresenta una scena armoniosa comunque un qualcosa di positivo viene spesso assimilato alla paura di essere giudicato e talvolta può essere anche il giorno del giudizio diciamo che rappresenta un po' la risurrezione rappresenta un po' il momento in cui devi vedere quello che ti succede se la carta è dritta ti riallaccia al passato ti riconcili col passato sei capovolta desideri andare avanti desideri guardare al futuro poi abbiamo il mondo che è l'arcano 21 rappresenta un quadro dove diciamo il mondo rappresenta l'illustrazione finale l'evoluzione la perfezione la stato immortale ha questo stato benefico questo stato fondamentale il numero 21 è il prodotto ternario del 7x3 due numeri sacri quindi rappresenta il perfezionamento totale dell'essere è considerato il compimento del ciclo fondamentalmente ogni spiritualità si fonda sulla capacità di superare la propria condizione significa realizzazione pienezza quieta apertura tolleranza se la carta è dritta hai trovato la tua strada per realizzarti con la carta capovolta trovi alcune difficoltà a realizzarti comunque sempre una carta positiva poi per finire abbiamo il matto che non ha numero il matto sembra un po' un giullare il folle diciamo i suoi pantaloni hanno uno strappo un animale lo cerca di azzanare sta cadendo diciamo rischia di cadere giù da un precipizio rappresenta anche l'esperienza di libertà fondamentalmente la follia il tutto è possibile diciamo assume un valore positivo ma può assumere anche un valore negativo secondo di come viene vissuto rappresenta l'avventura l'impulso la libertà ma può rappresentare anche l'emarginazione se la carta è dritta hai voglia di muoverti di cambiare se la carta è storta hai paura di lasciarti andare questo rappresenta un po' il matto bene questo abbiamo fatto un excursus insomma un po' di tutti gli arcani dei tarocchi per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo ciao ciao